Oltre 50.000 manuali sulla sicurezza sul lavoro, in inglese, francese, arabo, russo e rumeno, che saranno distribuiti presso le ASL, i CTP e i centri per l'impiego della capitale e corsi di formazione per immigrati vittime del caporalato. Presentata a Palazzo Valentini in occasione della giornata mondiale sulla sicurezza, ecco un'importante iniziativa a favore dei tanti immigrati che lavorano sul territorio romano. I corsi di formazione organizzati dalla provincia partiranno il 14 maggio prossimo. I partecipanti riceveranno cappellini e giubbotti catarifrangenti per la loro sicurezza personale, oltre ovviamente al manuale anche in versione tascabile. È un libricino fatto anche con un formato tascabile, in modo tale che nel cantiere può essere tenuto dai lavoratori senza grandi difficoltà. Ovviamente cerca di rispondere a un'esigenza, che è quella di dare degli strumenti minimi per poter salvare delle vite, perché concretamente conoscendo alcune norme sulla sicurezza si possono veramente salvare delle vite umane. Per i cittadini che volessero segnalare anomalie sui luoghi di lavoro è stato attivato dall'Aggiunta Zingaretti il numero 06676 65311. Per i cittadini che volessero segnalare